Musica Nel stesso tempo sarà installato come primo vescovo, invita tutti là Non avete paura di venire, non c'è il leone, non c'è il serpente Allora voi sapete che in Africa le messe sono lunghe non tanto per la liturgia ma alla fine per tutte le cose che dico, le ringraziamenti, i saluti poi uno parla a nome di questo, l'altro parla a nome di quello Io prendo la parola, non? C'è come se? C'è così Pag. 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 Pag.